Per me, come per tantissima gente che abita a Mendrisio nei suoi dintorni, le processioni sono una questione essenzialmente di sentimenti, di emozioni, di ricordi anche e di tradizione familiare. Io mi ricordo quando ero piccola che portavo i lampioncini in sfilata e poi mi ricordo anche quando partecipavo come spettatrice alle processioni ed oggi sono parte del comitato organizzativo. Io penso che questa mia storia è un po' la storia di chiunque voglia avvicinarsi alle processioni e di chiunque le stia sostenendo per tramandarle alle generazioni future. La processione del giovedì santo prende il via all'imbronire dal quartiere di San Giovanni. coinvolge 270 partecipanti ed un centinaio di persone che si occupano dell'organizzazione. Quando passa la processione, le strette viuzze del centro storico sono illuminate solo dalla luce particolare dei trasparenti, che sono affissi lungo tutto il percorso. Il suono delle trombe e dei tamburi, come anche lo scalpiccio dei cavalli, annunciano al pubblico l'arrivo della processione, che avanza lungo il suo itinerario arrivando fino all'esterno delle antiche mura del borgo, per poi tornare a percorrerlo a ritroso. La rappresentazione del giovedì non ha dialoghi, ma l'atmosfera è carica di emozioni quando i personaggi sfilano ed il pubblico è sempre molto attento ed interessato. Tutti i partecipanti sono calati nel proprio ruolo, chi a cavallo, chi a piedi. Ogni anno le interessate e gli interessati a partecipare alle processioni sono molto numerosi. Donne quanto uomini ambiscono a collaborare e ad avere un ruolo. Allora, come sempre, vi presento qui per le processioni, queste immagini ve le faccio vedere così vi ricordo innanzitutto, le processioni a menzino cosa vuol dire? Quante sono? Pietro? Due. Due. Una si fa? Giovedì. Giovedì. L'altra si fa? Venerdì. Venerdì. Ok, giusto? Quest'anno, nella processione del Giobbio del Santo, farò il portatazza. Io l'ho fatto l'anno scorso. Da grande vorrei continuare a fare le processioni storiche e il ruolo che vorrei fare sarebbe Maria. Il compito più importante che ho è quello di, assieme alla commissione speciale, di scegliere i vari personaggi che si iscrivono un mese prima della processione del Giovedì Santo. Dopo qualche notte non dormo per via che i sorteggi che vengono fatti non sempre sono bene accetti. Io quest'anno le processioni faccio l'acchè e tutta la mia famiglia da tanto fa le processioni. Queste processioni rispecchiano la cultura della mia città e del mio paese. Sono un evento importante per la mia città e successivamente, proprio perché durante queste processioni ho anche la possibilità di vedere delle persone che posso incontrare solo poche volte all'anno. I trasparenti sono dipinti traslucidi montati su strutture in legno ed illuminati dall'interno. La loro storia è molto antica e la loro tecnica realizzativa è particolare e preziosa. Stiamo proponendo, e fino all'anno scorso è stato fatto, l'esecuzione di nuovi oggetti, proprio perché la gente di Mendrisio e quelli come me che si appassionano li sentono come qualcosa di vivo. Non sono oggetti da museo, è per quello che il museo trasparente è necessario, ma sono stretti in un museo perché sono oggetti per essere vissuti e diventano compagni di vita con i quali ci si affeziona anche. Il restauro del trasparente per la mia famiglia è una tradizione, proprio una tradizione addirittura e io sono la terza generazione che lavora, anzi la quarta generazione che lavora su questi oggetti. Mi sono preso questa responsabilità anche perché allora non c'era nessuno che era in grado di poter fare questi interventi e c'era bisogno soprattutto di, come dire, elaborare delle tecniche moderne, perché ancora mio padre si basava sulle tecniche di mio nonno, quindi parliamo di materiali che adesso non si usano più tanto. Io andando a studiare a Firenze ho cercato un po' di svecchiare questa tecnica arrivando ai livelli che sono arrivato adesso. Attualmente noi conserviamo al Museo d'Arte circa 160 degli attuali 600 trasparenti, naturalmente all'interno di questi 160 ci sono i più antichi, i più delicati, quelli del Bagutti, quelli che oggi non vengono più utilizzati durante la settimana santa. Trasparenti in tanti, dato che sui saranno circa 100 trasparenti e dopo difficili è difficile, però bisogna fare molta attenzione perché bisogna trattare con cura, anche quanti si maneggiano il trasporto bisogna carregare su bene, mi ha fatto catacolpi e dopo quanti si tirano su, sui porti, su sotto i finestri, sotto i davanzai, bisogna vestire in e cercare di lavorare in una buona maniera. Il comune di Mendrisio ha un ruolo molto importante per quanto concerne l'organizzazione delle processioni. I trasparenti, gli abiti, ma anche tutto il materiale di scena appartengono al comune e sono conservati con la dovuta attenzione in locali destinati unicamente a questo scopo. Il ruolo del magazziniere e tutto fare nella processione è tenere tutto in ordine, controllare che tutto sia a posto perché ci sono 270 personaggi e ognuno ha la sua esigenza. Io riesco a contentare tutti, me la cavo e tengo in ordine tutto quello che è il materiale della processione del Giugno di Santo. Il venerdì santo, a partire dal tardo pomeriggio, sul grande prato dietro il cortile di San Giovanni, si ritrovano un gran numero di partecipanti, tra cui moltissimi bambini, bambine e ragazzi. La cosa che mi fa impressione, che mi ha fatto impressione l'anno scorso e penso che anche quest'anno mi farà impressione perché sarà sempre così. Poi anche i miei predecessori mi hanno raccontato che è così, è questo silenzio che si crea in questo momento della processione, un silenzio pieno di significato, un significato evidentemente religioso, un significato che è dentro nel cuore dell'uomo, insomma. Il senso religioso ce l'abbiamo tutti e questo significato viene fuori soprattutto in questo silenzio che ti aiuta a procedere in questo cammino, un cammino che diventa anche preghiera, un cammino che diventa contemplazione. La processione del venerdì santo è anche chiamata in terra ed ha un numero di partecipanti molto maggiore rispetto a quella della sera prima. Questa processione è molto ostera ed emozionante ed il suo itinerario è il medesimo di quello del giovedì. Si calcola che il venerdì possono essere portati in processione un massimo di 508 lampioni ed oggetti e che quindi, includendo le filarmoniche, i religiosi, i portatori e le confraternite, il numero delle persone che sfila supera ormai i 700. Grazie a tutti.